Non vi chiedete niente, dovete fare. C'è un'attività di decisioni, dentro e con gli occhi, con le mani, ma le due, la vede, però c'è senza quelli che due. It's a problem. Sei sulle spalle, sulle spalle, sulle spalle. Non è proprio così, però fa niente. È già qualcosa. Vai e dite. Si chiama della riva invertita. Quando il giro, io lo posso utilizzare per venire tutta la schiena. Capito? Vai per passare la guardia. Blocco. Ok? Poi giro e rietro in guardia da quest'altra parte. Da qua poi lavoro per sbilanciare. Cato qui. Giro. Basta. Basta.